... Un'altra nipotina c'è qua. Questo è il bambino più grande, questo è il bambino più grande. Sì, sei fratellino, sì. Giriamo un pochettino tutti quanti in giro. La facciamo una faccia che noi facciamo una tutta insieme. La facciamo una fotografia tutta insieme. La facciamo una fotografia tutta insieme. Da Michele. Ecco, così. E la signorina? Sì. Sì, sopra. La mia, una già passata e uno già rinforzato. Sì. Va bene. Colmerino. Che bello proprio. Questa luce è da pastiglia. È poco forte, forse. Bellissimo proprio. Maria, vieni il capo. Gira, gira. Gira. Un sorriso. Guardate verso la luce. Vi facciamo una corona. Guardate. Guardate, guardate. Un sorriso. Vedi come ti tiene bene. Sta buono, papà. Sì, sta buono, tutto quanto bene. Buono, mamma. Bellissimo. Sì, sì, sì. Caro po'. Che sa la beccata? Si. Que bello. Cos'è lì, no,? Vedi qui ti arriva. Allora, i vicini, vicini. Più. Vedi le camere le han... Sta dicendo però forte... Il piuono del mondo, eh. Si. Ma non si muove anche. Questa guerrino c'è bancazione del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.